Buonasera, benvenuti 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Rosi Bindi, esponente storica del centro-sinistra. Buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera Francesco Specchia, editorialista di Libero. Ripartiremo subito dopo la pubblicità dal caso Scurati e parleremo anche del Parto di Stabilità e del PD e dei 5 Stelle. Pubblicità. Marco Travaglio, riapriamo questa sera partendo dal caso Scurati in Rai, perché poco fa lo scrittore, ha detto che c'è una deriva fascistoide, non fascista e ha detto alla Fondazione Feltrinelli non vi aspettate le camicie nere con il manganello che vengono a bussare alla vostra porta, quello che doveva tornare è già tornato, è già qui, in tante piccole e grandi cose, comprese quelle che mi hanno riguardato e ricordiamo appunto questa censura della Rai del monologo di Scurati. Come commenti queste parole di Scurati? Ma che se questa è una deriva fascistoide dura da circa 25 anni, quindi avrebbe superato addirittura il ventennio di Mussolini, al quale lui ha dedicato diversi libri. In realtà questa deriva fascistoide si chiama lottizzazione della Rai, che è diventata particolarmente odiosa e stringente quando dalla lottizzazione tra i partiti presenti in Parlamento pre-2013, pre-Riforma Renzi, quando la Rai rispondeva ai partiti in Parlamento, la Rai è diventata proprietà del governo e quindi risponde principalmente al governo. Se Scurati avesse provato a fare un'imbettiva contro Draghi due anni fa, alla Rai non sarebbe passato, se avesse provato a farla dieci anni fa contro Renzi non sarebbe passato. Si chiama censura governativa, che è ancora più stringente da quando appunto la Rai, non da questi ma da Renzi, è stata consegnata al governo. Io ricordo che dalla Rai sono stati sparati fuori Biaggi, Santoro e Luttazzi nel 2002, quando non esisteva neanche un posto dove andare a lavorare in alternativa e infatti oggi per fortuna chi viene allontanato, chi decide di andarsene dalla Rai trova finalmente posto in una concorrenza che si chiama la 7, 8, 9, mentre all'epoca non c'era un altro posto dove andare. No, tutto uguale no, ho visto cose peggiori ai tempi di Berlusconi e di Renzi. Allora, Rosi Bindi è d'accordo, perché diciamo al di là dell'episodio di censura maldestra, Berlusconi rispetto a questi era con i suoi ditti bulgari, diciamo era un maestro, ma è da vent'anni che è così e quando Scurati dice che c'è una certa deriva fascistoide, non fascista ma fascistoide, che chiaramente lo scrittore si riferisce al fatto che da 17 mesi c'è un governo di destra a destra al potere in Italia, dopo che Giorgia Meloni ha vinto le elezioni con i suoi fratelli d'Italia, c'è una deriva fascistoide? Ma intanto direi che eventualmente è incominciata con Berlusconi, questo sì, che Berlusconi sia stato il primo, d'altra parte non si spiegherebbe il conflitto di interessi che c'era, ha incominciato lì, secondo me l'aggressione alla RAI, posso riconoscere che la riforma Renzi è una riforma che si iscrive in quel percorso per cui le nomine le fa il governo e non il Parlamento, che certamente è un modo per, diciamo è un'occupazione perché il servizio pubblico deve essere per sua natura un servizio pluralista, quindi non deve rispondere al governo, se deve rispondere a un'istituzione risponde al Parlamento, però per quanto il processo sia iniziato... E però è stato tutto uguale rispetto al servizio pubblico? Non è stato proprio tutto uguale. È la prima volta che c'è una forza politica che ha problemi a dirsi antifascista, no? Esatto, il problema è ciò di cui stava parlando Scurati secondo me, che ci sia sempre stata lottizzazione, non c'è dubbio che però non si può mettere sullo stesso piano quello che accade e che è accaduto in RAI in tutto questo periodo, ma il caso Scurati torno a ripetere, secondo me è ciò di cui parlava Scurati, no? Ed è le conseguenze che ha tirato con il suo ragionamento, che sono state un po' forti in effetti, però io non riesco a dargli torto, perché io avverto che questa maggioranza, in maniera particolare la Presidente del Consiglio e il suo partito, veramente sono a disagio, sono sempre stati a disagio in questa Repubblica, non l'hanno mai riconosciuta fino in fondo. La riforma della Costituzione che hanno presentato ne è la prova, quando Meloni dice la terza Repubblica, no, questa è un'altra Repubblica, perché se si passa dalla Repubblica parlamentare ad una Repubblica di fatto fondata attraverso le elezioni del premio autocratica, dove salta il Parlamento come espressione di sovranità popolare perché diventa espressione della Presidente del Consiglio e dove il Presidente della Repubblica non ha più le funzioni che ha, dimostra chiaramente che questa Costituzione e questa Repubblica antifascista, loro non l'hanno mai accettata fino in fondo, si sono sempre sentiti ospiti e questo è il punto vero, fare il 25 di aprile in questo momento in Italia significa ricordare la resistenza, non fare revisionismo storico sulla resistenza, non fare revisionismo storico che per esempio tenta di fare di tanto in tanto il Ministro Lollo Brigida e anche la russa sugli anni del terrorismo neofascista e sul terrorismo rosso. In questo Paese questa vena nera non è mai sparita di fatto, si è espressa attraverso il terrorismo, si è espressa in Parlamento attraverso un piccolo gruppo che ora è diventato maggioranza, non nel Paese ma in Parlamento in virtù di una pessima legge elettorale fatta dal centro-sinistra, questo non lo nascondo, pessima legge elettorale e adesso viene fuori la verità, davvero fanno fatica a parlare di antifascismo, a definire antifascista questa Costituzione e questa Repubblica? E' lì il punto per cui Scurati viene censurato, no? In qualche modo. E questo è il punto Francesco Specchia, c'è una vena nera che non è mai sparita e c'è da una buona parte di questa maggioranza al governo un disagio con la Repubblica basata sull'antifascismo con una Costituzione che è antifascista? Sì, che è antifascista che ha consentito al Movimento Sociale di entrare in Parlamento quindi basata sull'antifascismo che è il cardine di tutto praticamente del cuore della nostra Costituzione, della nostra democrazia che ha consentito appunto agli ex fascisti di entrare in Parlamento, quindi è emblematico questo. Allora su Scurati io ho apprezzo un po' più Perché è una democrazia? Dice perché è una democrazia Appunto. Stiamo dicendo le stesse cose. Detto questo io su Scurati apprezzo sempre moltissimo lo stile di Scurati ha citato in realtà con quella frase, sono già arrivati, l'uomo nell'alto castello di Philip Dick che è questo paradossalmente, questo romanzo con questa sorta di distopia che si chiama Ucronia in gergo dove i nazisti vincono la guerra l'uomo nell'alto castello in questo caso è la donna dell'alto castello. Quindi teoricamente mi viene voglia di chiedere asilo alla Polonia se continua, se sento lo sferragliare dei carri armati sulle strade, ma in realtà Scurati la vicenda Scurati è molto più semplice di quello che appare. Ora al di là del fatto che Curati è finito su tutte le pagine dei giornali, benedetto lui sembra Martin Luther King io ero presente, è perché ero ospite, ho vissuto direttamente tutta la faccenda da Serena Bortone e Scurati ha semplicemente ricevuto, è stata gestita malissimo dal punto di vista della RAI la cosa, una delle cose peggiori degli ultimi dieci anni, secondo me qualcuno la pagherà, ma al di là di questo Scurati ha ricevuto una commissione, un datore di lavoro che fa la commissione di un testo, il testo deve essere sulla resistenza, Scurati ha fatto un ottimo testo, un po' scopiazzato da un vecchio articolo, nella prima parte su Matteotti perfetto, nella seconda parte ha tirato a freddo una pistolettata alla Meloni, a questo punto siamo in un periodo di parcondicio, siamo al vaglio di una commissione che tutte le televisioni hanno prima della parcondicio, c'è la Mediaset, c'erano le reti Discovery c'era anche la Sette, di un testo di carattere politico che era querelabile perché agli sensi dell'articolo 290 del codice penale, io ho parlato con gli avvocati, potrebbe essere querelabile perché c'era vilipendio, alla figura della presidenza del Consiglio e quindi a uno degli elementi delle istituzioni dello Stato, detto questo della Repubblica, allora cosa hanno fatto? Hanno detto invece di dire a Scurati o ti mettiamo uno vicino, un Pietrangelo buttafuoco che legge Mirigoni Stern e compensiamo la parcondicio, oppure tu lì mi un attimo nel testo, invece di fare questo la RAI ha deciso di utilizzare l'argomento del costo e qui ecco tutto l'asino, perché invece di dire guardate che noi siamo gli editori, abbiamo delle esigenze, lo fanno tutti sotto elezioni, è la cosa più normale del mondo, hanno usato l'esperienza del costo alto, quindi la cosa sbagliata è stata questa scelta di comunicazione, non c'è stata censura, c'è stato semplicemente un controllo del testo di un committente che dava a una... Vabbè, diciamo che la libertà di espressione in un servizio pubblico è un altro film, ci ho lavorato tanti anni quindi so bene, anche in campagna elettorale. Il Presidente della Repubblica e il RAI non potevi farlo quando eri al Tg1, non diciamo sciocchezze, qualsiasi cosa può essere, deve entrare nei limiti della legge. I telegiornali sono un'altra cosa dalle trasmissioni di approfondimento, tanto per cominciare. In ogni caso, no, voglio aprire, voglio però, siccome c'è un punto importante Marco Travaglio che è stato utilizzato dal Presidente del Consiglio Meloni quando ha attaccato Scurati e ha pubblicato il suo testo e poi ha aggiunto che insomma con i soldi dei cittadini e quindi con i soldi del servizio pubblico non si poteva pagare un minuto, poi in realtà anche una caduta di stile, quella cifra 1800 euro che erano soldi dei cittadini eccetera. Come se uno dovesse lavorare gratis, questa è proprio una cosa che non capisco, tu lavori gratis, io lavoro gratis, lei ha fatto gratis la parlamentare, non credo. Ma vedi, la volgarità di questo argomento si commenta da sola, quando non vuoi dire che prendi le distanze dal testo dici costa troppo, vuole essere pagato, vuole i soldi come se un professionista di quella levatura dovesse lavorare gratis. Poteva anche farlo, cioè io al suo posto avrei detto vi frego venendo gratis, così dovete censurarmi sul testo se volete andare fino in fondo perché non ve lo lascio questo pretesto. Per esempio Orsini due anni fa a proposito di Teledraghi fu messo sotto contratto da Bianca Berlinguer, ma siccome sull'Ucraina diceva delle cose che non si potevano dire, adesso le dicono tutti, ma all'epoca non si potevano dire, gli stracciarono il contratto e dissero vuole i soldi e lui disse bene vengo gratis e li fregò. Te ne dico un'altra, io quando Santoro nel 2006 tornò in televisione dopo l'editto bulgaro perché il Tribunale lo reintegro, mi chiese di fare una rubrica, l'allora amministratore delegato della RAI Masi si rifiutava di farmi il contratto e quindi io per non dargli la vinta ho lavorato per la prima stagione intera, 30 puntate, senza prendere un euro, alla fine dell'anno per evitare una causa mi hanno dato tutti gli arretrati, ma potevano anche non darmeli, io per tigna ho deciso di lavorare gratis, è una vergogna che a qualcuno venga chiesto di lavorare gratis, ma c'è quel modo lì per fregarli, a quel punto devono intervenire e dire tu quella cosa non la puoi dire, è sempre ricorso questo argomento volgare per screditare chi dice una cosa che non fa comodo, dire vuole i soldi, io me la ricordo vent'anni fa perché lo dicevano di chiunque andasse in televisione, è stato usato anche per screditare la politica, questo populismo è stato dei 5 stelle su un fronte, poi adesso è sull'altro fronte, scusi Rose Bindi, ti chiedo subito una parola specchia, 5 stelle ce l'avevano con quelli che vi rubavano i soldi. Banalmente Marco, ma vi do tutte le ragioni del mondo, ma banalmente era semplicemente una cosa tra committente e prestatore d'opera, se il committente bisognava avere il coraggio di dire questa cosa non ci va perché ci siamo pieni a carcondicio e non va bene, non l'hanno fatto. Va bene, non lo so, Francesco Specchia, in questa televisione il committente non ha mai detto che una cosa andava bene o non andava bene, questo fa parte dell'autonomia professionale dei giornalisti. Solo una battuta, io considero veramente che continuare a trovare scuse, quella del denaro è una caduta di stile che mi fa pensare che oltre che degli incompetenti ci sono anche dei maleducati, non so a chi rivolgere questa espressione ma è abbastanza diffusa e l'altra è inutile che continuiamo a trovare delle scuse, quello che non andava bene era il contenuto di quel testo perché questo argomento è un argomento con il quale questa maggioranza e in maniera particolare il partito della Presidente del Consiglio è qualcosa che non riesce a digerire. Ammettiamo questo, poi non chiamiamo in causa uno scrittore, un artista dice le sue cose, se tu lo chiami lui si esprime, lui si esprime il servizio pubblico nel momento in cui tu chiami uno scrittore sai anche di che cosa pensa perché l'ha scritto almeno in tre volumi e lo dice tutti i giorni, se tu gli sottrai il testo è evidente che è l'argomento che non digerisci e non lo digerisci per i motivi che dicevo io prima, non si sono mai liberati da quell'appartenenza politica e culturale, tra l'altro le opposizioni chiedono che... Io non ho paura delle camicie nere, ho paura della torsione autoritaria di questa nostra democrazia, in Italia come in tanti altri paesi europei con i quali guarda caso questo governo va a braccetto e siccome è una fase molto delicata che ci sta riportando anche alla guerra, consentitemi di dire che io sono estremamente preoccupata, non ho paura delle camicie nere, ho solo paura che le connotati fondamentali di questa democrazia finiscano definitivamente per snaturarsi in una svolta autoritaria e la penso esattamente come quelli che le scrivono e le dicono queste cose. Travaglio e Specchia? No ma anche perché dire come ha fatto la Meloni che non si può pagare uno con soldi pubblici per attaccare il Presidente del Consiglio significa che con i soldi pubblici si pagano soltanto quelli che non attaccano il Presidente del Consiglio. Ma allora il servizio pubblico non è il servizietto privato del Presidente del Consiglio. Soprattutto la libertà la cui riconquista celebriamo dopo domani il 25 aprile è stata appunto conquistata per poter criticare i governi perché per parlare bene dei governi bastava il fascismo. Un altro conto è l'attacco diretto e il vilpendio in una cosa che non c'entrava niente. La prima parte del testo era perfetta. Ma chi lo stabilisce il governo? Ti chiedono un testo. La RAI ha chiesto un testo sul 25 aprile. La seconda parte Scurati che è un grandissimo, ha un'astuzia straordinaria, ha infilato una pistolettata diretta alla Meloni che non c'entrava niente. Sotto parcondicio, anche qui se io ti parlo male della Meloni vengo censurato perché non posso dirlo. No, no, ti sbagli. Qui non viene censurato proprio nessuno. Allora scusate, ti sbagli. No, ti devo mentire. Siccome sono un utente. Saprò quello che succede nella mia televisione, nel mio programma? Lo so meglio di te. Siccome io sono un utente che guarda la televisione posso dire qualcosa? Lasciamo finire Specchia e poi Bindi? Se io do della nazista in questa sede a Giorgia Meloni o al Presidente della Repubblica, dico Mattarella è un nazista, incorrono nelle more del 290 e del Codice Penale. Ti denunceranno? Come ha fatto la Meloni con il filosofo? La RAI prima di entrare che non può farlo. A meno che poteva farlo mettendoci vicino in Parcondicio un altro scrittore. Ma no, ma no, ma no. Non è così. Siccome io sono una telespettatrice, sono una persona che guarda la televisione perché si vuole informare e guarda tutte le reti, posso dirle che le reti meno pluraliste in questo momento sono quelle della RAI. Ma l'osservatorio di Pavia dice l'esatto contrario. Ma no, ma come no? Tg la 7 e il Tg 1, ma di cosa stiamo parlando? Allora l'osservatorio di Pavia conta i minuti che i partiti, gli esponenti dei partiti occupano, quindi non c'entra con i contenuti. Allora. No, no, non c'entra anche con i contenuti, perché c'entra il tempo d'antenna, si valuta anche sui contenuti. Comunque va bene, è un'altra cosa. Marco andiamo avanti così, tra un po' in questo paese sarà sempre più divertente o inquietante, vediamo. Ma no, perché la parco dici riguarda i tempi di accesso dei politici in campagna elettorale nelle televisioni. Non riguarda quello che io, Specchia, Buttafuoco, Bocchino, Rosibindi, diciamo. Possiamo dire quello che vogliamo. Se calpestiamo il codice penale finiamo denunciati e starà un giudice. Ma ti pare che la RAI può dire tu non parli perché questa roba qui può essere vilipendio. Poi io personalmente non condivido quello che diceva Scurati, cioè che c'è continuità fra il fascismo e la Meloni, perché questa è la parodia della parodia berlusconiana che era già una parodia del fascismo, quindi è una parodia al cubo. Quindi questi fanno pena, non fanno paura. Ma dopodiché sarà libero Scurati di dire quello che vuole. Dopodiché i cittadini giudicheranno in una televisione dove di critiche alla Meloni non se ne sentono proprio. Parlo della RAI. Voglio dire, ogni tanto uno che critica ci può pure essere o no. O devono intervenire con una sentenza definitiva che non ha ancora dato nessuno. Questo è semplicemente assurdo. Ti faccio l'elenco dei programmi del 5 Stelle, del centro-sinistra, di quelli ampiamente lottizzati in questa destra. Ma c'è, la RAI è sempre stata lottizzata. Allora, però io adesso questa sera non volevo portarvi a parlare della RAI, che è un luogo che conosco molto bene perché ci ho lavorato vent'anni. Cercavo di portarvi su un tema diciamo almeno altrettanto serio. Ma siccome invece vi porto su un terzo tema. Perché siccome ieri in Basilicata e ricomincio da Marco Travaglio ha vinto, come era previsto, il centro-destra per il nuovo Presidente della Regione, che è stato rieletto, e tu oggi hai detto, hai titolato, scusa il tuo giornale, Elia Pezzi bocciata dal PD e in Basilicata. Ora, siccome abbiamo qui un'esponente storica del centro-sinistra, perché titolate così quando in realtà il vero tonfo è stato quello del Movimento 5 Stelle, che aveva preso cinque anni fa alle regionali un po' più del 20% e ieri ha preso un po' più del 7,5, 7,6 mi pare. Ma intanto i dati dei partiti sono arrivati quando il giornale era chiuso, perché noi chiudiamo il giornale 9,5, ci siamo occupati della sconfitta di un candidato che era il candidato del PD, ma soprattutto quello che è successo ieri nel PD e che giustifica quel titolo è che Elislein voleva cambiare il nome del partito mettendoci il suo cognome nel logo e se non gliel'avessero consentito voleva candidarsi in tutte le circoscrizioni per le europee ed è stata bocciata dai suoi stessi amici, sia per quanto riguardava la multicandidatura, sia per quanto riguardava il cambio del simbolo, è stata una giornata nera, a me dispiace perché io tifo da prima che vincesse le primarie, ho sperato che le vincesse, sono stato felice quando le ha vinte, penso che se fallisce anche la Schlein il PD può chiudere bottega perché non so a quale altro santo può votarsi, però noto che dopo un anno in cui tutti speravamo come quelli che l'hanno portata alla segreteria che riuscisse a cambiare il partito, bisogna cominciare a domandarsi se non sia il partito che sta cambiando lei, perché a me già l'idea, io su questo sono d'accordo al 100% con Prodi, ma come ti viene in mente di candidarsi, di candidarti al Parlamento europeo se già sai che non ci vai? Ma allora vuoi fregare gli elettori, come li vuoi fregare mettendo Tarquinio, Cecilia Strade, Jasmine Cristallo che non avrebbero mai votato per le armi all'Ucraina né in Italia né in Europa, mentre il tuo partito ha sempre votato per le armi all'Ucraina, addirittura per il riarmo dei soldi del PNRR. E poi ci si meraviglia se la gente non va a votare, ma questi sono i classici comportamenti per far sentire gli elettori fessi e inutili. Allora, Rosi Bindi, ha detto Marco Travaglio, se fallisce la Schlein il PD può chiudere bottega e che probabilmente è il PD che sta cambiando Eli Schlein, che per un attimo abbiamo visto ha pensato e di mettere il suo cognome nel simbolo del partito e comunque si candida alle elezioni per l'Europa come capolista o comunque sì, credo come capolista nel centro e anche nelle isole. Quindi si candida per un posto nel quale non andrà mai, a Persello non andrà mai. Sì, mi sembra che questo lo stanno facendo in molti purtroppo. Lo faranno anche altri, non vediamoci perché... Mi parli di capire che lo faranno i italiani, i italiani... Sì, lo faceva Berlusconi però... La penso come prodi, nel senso che l'ho detto dall'inizio, ma questo perché? Perché queste elezioni europee che sono molto importanti per l'Europa, perché sarà un passaggio cruciale secondo me, finisce per essere in Italia un derby tra i vari capi politici, cioè si valuterà ancora una volta, si farà un sondaggio sul governo, su Giorgia Meloni, su Eli Schlein, su Tajani e questo credo che sia sbagliato nei confronti dell'Europa perché in questo momento più che mai abbiamo bisogno di confrontarci sul futuro di questo continente, perché se cambia e se diventa una realtà politica federale avrà un futuro. Se pensa di vivacchiare come ha fatto in questi ultimi anni, io credo che l'Europa non avrà futuro e se non avrà futuro l'Europa non avrà futuro neanche l'Italia. Ma il PD ha futuro con Eli Schlein? Allora, non si cambia in un giorno una macchina così complicata, io non a caso parlai di scioglimento, si arrabbiarono tutti, ma non era per estinguerlo il PD, era perché fosse capace di aprirsi e di messersi in discussione come comunità. Tant'è vero che hanno eletto una che non era stata eletta, non aveva vinto con gli iscritti, quindi chiaramente il bisogno di un'irruzione dall'esterno c'era con molta chiarezza. Allora, io do atto a Eli Schlein di provarci, ma il lavoro è molto complicato, è complicato perché il partito è organizzato per correnti, perché è una classe dirigente che è molto votata alla conservazione di se stessa, perché nel mezzogiorno ci sono le situazioni che abbiamo visto, perché si sottovalutano e si continua a sottovalutare la questione morale come questione democratica, gli riconosco un merito che è quello di tenere, di continuare a perseguire l'unità del centro-sinistra e quindi in questo rispetto al comportamento di Cinque Stelle... L'unica che ci crede tra Conte e Schlein... Insomma, spero che ci credano tutti, perché altrimenti qua è inutile che noi continuiamo a discutere sui pericoli della destra in questo paese se non c'è un'alternativa del centro-sinistra e della sinistra. Tra l'altro a Eli Schlein rimproverano anche nel suo partito di essere succube di conto. Ecco, succube non deve esserlo, però che continui a perseguire... No, secondo me non lo è, ma è molto difficile fare questo tipo di valutazione quando non c'è da parte di entrambi o non si manifesta con chiarezza da parte di entrambi il perseguimento di questo obiettivo. Io spero che anche i Cinque Stelle si decidano da questo punto di vista, perché sarà necessario indispensabile, incominciare a costruire da subito l'alternativa al centro-destra. Vedremo, lo vedremo, intanto vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci riporta al tema della guerra, ovvero dell'industria degli armamenti. Guardate. No, mi smacca curato un libro, Traiettoria di futuro, in memoria di Giulio Sant'Aga, ha chiesto ad Anthony Gardner, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea e amico dell'Italia, di scrivere il capitolo dedicato alle principali novità geopolitiche. Nel libro che il Mulino pubblicherà in estate, Gardner mette a fuoco numerosi aspetti, i cambiamenti della mappa energetica mondiale, il nuovo ruolo degli stati in economia, il dilagare del protezionismo e del populismo, ma la prima osservazione riguarda gli assetti militari. Scrive Gardner che Vladimir Putin è stato il miglior venditore che la Nato abbia mai avuto. A seguito dell'invasione russa, la Finlandia e la Svezia hanno aderito al patto atlantico. I bilanci della difesa sono aumentati drasticamente in tutta Europa, soprattutto nei paesi dell'est e negli stati baltici. La Germania ha annunciato un forte incremento della spesa dopo molti anni di sottoutilizzo delle forze armate. La Nato, un tempo definita cerebralmente morta dal presidente francese Macron, è risorta. Che sia in corso un aumento senza precedenti della spesa militare è confermato dai dati diffusi ieri dall'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma. Nel 2023 la spesa globale è cresciuta del 3,5%. e ha raggiunto il livello record di 2.400 miliardi di dollari. Tutti i paesi Nato, con l'eccezione di Grecia, Romania e Italia, hanno aumentato gli stanziamenti per raggiungere o superare l'obiettivo del 2% sul PIL. Se è vero che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale gli europei sono stati consumatori di sicurezza anziché produttori, come scrive sul Corriere Angelo Panebianco, è vero anche che le cose stanno rapidamente cambiando. Siamo in chiusura, grazie Rosi Bindi. Voglio ricordare che oggi è uscito un importante libro di cui lei ha scritto la prefazione, iscritto da Nera Fallaci, dalla parte dell'ultimo Vita del prete Lorenzo Milani. È stato pubblicato dall'Arizzoli, Bur dell'Arizzoli, un libro prezioso, importante e la prossima volta presto qui ce ne parlerà. Grazie Marco Travaglio, grazie Francesco Specchia, grazie spettatrici e spettatori, linea Giovanni Floris al suo di martedì, quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo. Arrivederci.